La genofagia è un'arma biologica utilizzata per porre fine alla rivolta dei Krogan. I Turian riuscirono a mettere i Krogan alle strette, ma i nemici erano troppo numerosi per vincere la guerra con i metodi convenzionali. Per questo collaborarono con i Salarian per creare geneticamente un virus capace di contrastare la straordinaria natalità dei Krogan. Il virus della genofagia divorava le sequenze genetiche principali, modificando ogni singola cellula della fisiologia Krogan per impedire il ricorso alla terapia genetica sui tessuti infettati. Dopo essersi replicato al massimo, il virus moriva spontaneamente, limitando le possibilità di mutazione o contaminazione. Inoltre, il danno genetico apportato al DNA era ereditario. La genofagia creò una mutazione genetica che consentiva a una sola gravidanza su mille di andare a buon fine. Non ridusse la fertilità, ma solo il tasso di natalità della popolazione. Le femmine Krogan, in grado di portare a termine una gravidanza, diventarono dei trofei che i signori della guerra si contendevano aspramente. Il ricorso alla genofagia è ancora fonte di accesi dibattiti a livello galattico.